Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione delle ultime notizie dal territorio. Ladri nella chiesa degli Scalzi a Venezia a fare la scoperta è stato il priore che ha chiamato immediatamente la polizia. Dalla chiesa che si trova poco distante dalla stazione ferroviaria sono spariti molti cuori in argento, ex vuoto che si trovavano di fianco all'altare dove c'è la Madonna Nera. La tecca votiva era stata gettata a terra vuota, una seconda è stata danneggiata. Sono in corso indagini. Il 4 ottobre scorso un rogo di dimensioni enormi ha distrutto lo stabilimento della NECSRL, un'azienda che gestisce il trattamento rifiuti plastici a Monselice in provincia di Padova. Un incendio che aveva fatto molto discutere anche perché erano in corso in quei giorni delle problematiche piuttosto gravi. Oggi i carabinieri hanno arrestato due persone ritenute le responsabili del dolo. Con l'operazione denominata Fuoco Incrociato i carabinieri di Abano Terme hanno arrestato due persone ritenute responsabili dell'incendio che il 4 ottobre 2016 aveva completamente distrutto lo stabilimento della NECSRL. L'azienda di gestione e trattamento rifiuti plastici di Monselice era in grossa difficoltà e al tempo vi erano numerose problematiche con il personale. I due arrestati sono un uomo e una donna di nazionalità marocchina. Si tratta di due ex dipendenti dell'azienda. Gli uomini dei carabinieri sono arrivati ai due soggetti al termine di una lunga serie di controlli. All'origine del gesto ci sarebbe una ritorsione maturata in seguito al licenziamento. I due ritenevano di non aver ricevuto quanto gli aspettava. L'incendio era stato di dimensioni enormi con un danno pari a 3 milioni di euro. Per domare le fiamme i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 24 ore e per la tipologia di rogovi era stato un grande allarme per la qualità dell'aria. E adesso parliamo di richiedenti asilo presenti in Italia. Serve la possibilità di utilizzare i richiedenti asilo per lavori di pubblica utilità finanziati con fondi europei. non si creerà una duplicazione nel mondo del lavoro perché non sarà un lavoro retribuito. Lo ha detto oggi il ministro dell'interno Minniti in audizione alle commissioni riunite a fare i costituzionali di Camera e Senato. Minniti ha detto che bisogna evitare il vuoto dell'attesa ricordando che i richiedenti asilo aspettano fino a due anni una risposta alla domanda. è ricoverato in rianimazione un uomo di 40 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Camisano Vicentino. Per cause che sono ancora in corso di accertamento l'uomo è rimasto ferito durante la pulizia di un silos da una fresa che all'improvviso si è sganciata colpendolo in pieno alle gambe. I medici si stanno prendendo cura di lui e stanno facendo il possibile. Adesso dobbiamo parlare di un incidente. Un incidente avvenuto tra due automobili e un mezzo pesante. Scontro avvenuto a Curtarolo in provincia di Padova. Tanta paura, una donna rimasta ferita. Poco dopo le 13 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale 47 in via Cengio nel comune di Curtarolo in provincia di Padova per un incidente stradale. Coinvolte due automobili e un mezzo pesante. Ferita, una donna. I pompieri di Cittadella e Padova hanno messo in sicurezza i veicoli mentre la donna ferita che viaggiava a bordo di una Fiat 500 è stata stabilizzata da personale del 118 prima di essere portata all'ospedale. Medicato sul posto l'autista dell'altra auto per una piccola ferita. Illeso l'autista dell'auto articolato. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un'ora. In palestra o a casa durante l'orario di lavoro non c'è stato scampo per un dipendente del comune di Treviso assenteista. L'uomo è stato sospeso dal servizio dal dirigente del settore risorse umane del comune di Treviso, titolare dell'ufficio disciplinare. Un provvedimento richiesto dal sindaco Manildo. L'uomo era recidivo perché già sospeso in passato dall'attività lavorativa per sei mesi. E adesso una notizia che per fortuna ha un lieto fine. Un ragazzino scomparso è stato ritrovato a Venezia. Rintracciato alla stazione dei treni di Venezia è un ragazzino che da alcuni giorni si era allontanato dalla sua casa di Udine. A trovarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, specialità ferroviaria di Venezia, in servizio nella stazione Santa Lucia. La foto del ragazzino era stata diffusa ai colleghi dagli agenti della Questura di Udine che avevano raccolto la denuncia della mamma del giovane. Per questo motivo, durante la consueta attività di prevenzione e repressione dei reati, gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio nella stazione Lagunare, muniti di descrizione e foto del ragazzo, si sono subito attivati nelle sue ricerche tra i viaggiatori. Grazie alla puntuale attività di controllo e all'attenta osservazione, il ragazzino è stato individuato e una volta avvicinato con molto tatto, messo a conoscenza della denuncia fatta dalla madre, preoccupata per la sua scomparsa. A questo punto il giovane ha confessato ai poliziotti di aver preso il treno a Udine la sera prima, facendo il viaggio nascosto nella toilette per eludere i controlli. Poi, giunto a Venezia, era sceso e aveva passato la notte coricato su una panchina. Il suo intento era di prendere nuovamente un treno l'indomani per recarsi a Roma. La vicenda si è conclusa in maniera positiva e il giovane è stato riaffidato alla mamma. L'ASAPS, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, si costituirà parte civile nel processo che vede un 44enne di peschiera Del Garda in provincia di Verona accusato di omicidio stradale per la morte di Flavia Castagnini, una donna veronese di 50 anni. La sera del 19 gennaio scorso la donna viaggiava sull'auto condotta dal 44enne che, guidando ubriaco, perse il controllo del mezzo andando a scontrarsi frontalmente con un'altra macchina condotta da una ragazza rumena di 28 anni. Dagli accertamenti emersi che l'uomo era al volante con un tasso alcolemico vicino ai 2 grammi per litro di alcol nel sangue, quindi quasi al quadruplo rispetto ai limiti previsti dalla legge. Per questo venne arrestato e piantonato all'ospedale dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico e in passato all'uomo era già stata sospesa e anche revocata la patente. L'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale ha incluso questo tra quelli in Italia in cui si costituirà parte civile nel processo dando mandato al proprio legale di attivarsi in vista del giudizio. Recentemente il Tribunale di Padova e quello di Frosinone hanno ammesso l'ASAPS in procedimenti simili per omicidio stradale. E adesso parliamo delle mense scolastiche di Padova. Sono state inviate proprio in questi giorni 2.091 lettere di sollecito a chi non ha pagato il servizio. Pensate che l'importo è arrivato a oltre 369 mila euro. In questi giorni sono state inviate lettere di sollecito relative al servizio mensa delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado alle famiglie che risultavano non in regola con il pagamento per il corrente anno scolastico. Si tratta della città di Padova e di persone che nonostante gli avvisi inviati periodicamente via sms risultano avere un debito superiore a 40 euro. L'amministrazione comunale di Padova ha voluto sollecitare tali addempimenti per evitare un ammontare maggiore del debito a fine anno scolastico. Nei casi in cui il debito sempre per quest'anno scolastico risultava essere inferiore a 40 euro, gli utenti sono stati contattati al telefono. Il pagamento del servizio mensa, si sottolinea, è un prepagato. Ciò significa che gli utenti al momento del consumo del pasto devono avere a disposizione il credito corrispondente ad almeno il costo di un pasto. Per gli utenti delle scuole dell'infanzia invece la tariffa forfettaria mensile deve essere versata entro il 10 di ogni mese. Anche in questo caso si tratta di sistema prepagato. Alle scuole primarie e secondarie di primo grado sono state inviate 1.862 lettere per un debito totale di 329.000 euro. Alle scuole dell'infanzia sono state inviate 229 lettere per un debito totale di 40.112 euro. Il 23% degli inadempienti ha un debito superiore a 300 euro. Per quanto riguarda invece il debito complessivo degli anni scorsi, l'ufficio mensa sta provvedendo al recupero coatto. Identificati gli autori di un'aggressione subita da un ragazzino di 17 anni nel pomeriggio di ieri a Pordenone. Il gesto sarebbe stato originato da motivi personali poi degenerati. Sul posto è intervenuta la polizia che ha individuato i responsabili delle violenze. Si tratta di un 22enne della provincia di Venezia, uno di 19 anni e due minori. L'aggredito è stato medicato al pronto soccorso e giudicato guaribile in una settimana. Uno sguardo alle condizioni climatiche. Una depressione di origine atlantica si è avvicinata al Veneto e interesserà la nostra regione in particolare tra venerdì e sabato. Fino a domani avremo un tempo abbastanza nuvoloso con un aumento della probabilità di precipitazione che aumenterà con il trascorrere delle ore. Domenica la pressione sarà in aumento e il tempo sarà variabile. È tutto per questa edizione. Ringrazio tutti voi per l'attenzione. Vi invito a rimanere sintonizzati su Telecittà. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Buonasera, sono Belinda D'Angelo, trasmetto dallo studio Pilates e Altro in centro Padova. Questa sera dobbiamo fare un po' il punto e parlare un attimo del Pilates. Vi abbiamo mostrato tanti esercizi, vi abbiamo dato tanti consigli, ho visto che dalle vostre risposte, dalle vostre telefonate, dalle vostre mail, le avete messi anche in pratica e questo ci fa molto piacere. Però dobbiamo soffermarci un attimo e capire bene che cos'è questo Pilates perché altrimenti non riesco a mandarvi il messaggio di farvi capire perché dovreste scegliere noi come studio dove appoggiare la vostra salute mentale, fisica per chi ha problemi ma anche per chi non ce li ha. Quindi il Pilates è un'attività che si differenzia dalle altre in quanto vuole agire dall'interno verso l'esterno. Noi abbiamo tre strati di fasce muscolari, quella superficiale che è quella che si vede, quella mediana diciamo così che non possiamo già più vedere e quella chiamata così profonda che si attacca alle ossa e agli organi. Bene, l'obiettivo del Pilates attraverso i principi, ad esempio la respirazione, vuol agire dall'interno verso l'esterno in modo che queste membrane, come io vado ad attivare la muscolatura profonda, agisco anche su quella intermedia e su quella superficiale. Quindi ho più fasce muscolari che lavorano e questo ad esempio è perché il Pilates, oggigiorno per fortuna in tutto il mondo, viene anche consigliato soprattutto per chi ha problemi alla colonna. Perché andiamo a lavorare questi muscoletti piccoli, medi e superficiali proprio della schiena della colonna. Ma non solo. Ad esempio l'addome, chiamato cingolo pelvico, è molto importante perché la nostra struttura del corpo, sul bacino si appoggia tutta la struttura. Quindi questa muscolatura deve essere forte per ad esempio non dare problemi quando non si è più giovane. Ad esempio prendiamo per i maschietti la prostata o per le donne l'incontinenza. Ovviamente la gravità preme tutto giù. Quindi se io non ho una muscolatura superficiale, intermedia, profonda, che mi sostiene, tutto tende ad uscire. Ho qui con me una colonna perché la maggior parte delle persone che vengono, che hanno delle problematiche, hanno delle problematiche alla colonna. Le patologie della colonna, a parte la più diffusa, più diffusa forse una volta che era la scogliosi, e che comunque poi con l'andare dell'età la colonna, una volta che si è deformata, non c'è più la crescita, rimane così com'è. Abbiamo invece delle patologie più importanti che possono degenerare con il tempo. Ad esempio questa colonna ci presenta un'ernia. Questa è la patologia più diffusa. È bello vedere la colonna, no? Come dovrebbe essere. Quindi una forma di una S, però senza questa ernia. L'ernia non è altro che questo cuscinetto che a forza di comprimersi fuoriesce. Fuoriesce, generalmente a destra o a sinistra. Se fuoriesce verso l'interno, va verso il midollo spinale, qui bisogna intervenire subito perché altrimenti si rischia la paralisi, tendenzialmente quasi mai esce nella parte anteriore. La più diffusa è nella zona lombare, però può capitare nella zona toracica o nella zona cervicale. Quindi è molto importante fare pilates, soprattutto per le persone che hanno patologie. Noi facciamo sessioni individuali e di gruppo. Le sessioni individuali sono molto importanti. Si costruisce un percorso sia per una persona che ha patologie, sia per una persona che non ha patologie, ma ha comunque esigenze particolari. Parliamo di persone che hanno patologie alle colonna? Sì, ma non solo. Parliamo di persone che vengono da noi, che hanno delle malattie degenerative come il Parkinson, l'Alzheimer, post ictus, che quindi hanno bisogno di una buona riabilitazione. Parliamo di persone che hanno fatto la riabilitazione dopo un incidente, un intervento, e devono continuare ad allenarsi e vengono a fare pilates. È molto, veramente molto importante il pilates ed ha dei benefici anche nel lungo termine. Però bisogna essere costanti e investire del tempo e a volte anche del denaro, perché no? Ma la vostra salute quanto vale? Non ha prezzo. La mia non ha prezzo. Io per stare bene farei qualsiasi cosa, soprattutto se vedo i risultati. Da noi i risultati sono garantiti. Le persone che vengono da noi, sempre dopo poche lezioni, hanno avuto già i primi risultati. Quindi vuol dire che come collaboriamo, come lavoriamo, come ci impegniamo, è la strada giusta. E quindi decidiamo di continuare a percorrerla in questo modo. Spero di essere stata abbastanza esauriente, ma non noiosa. E vi aspettiamo presso il nostro studio per dare anche a voi dei benefici. Auguro buona serata a tutti. Auguro buona serata a tutti.